Nel senso che è un dato che è diffuso su tutto il territorio perché ad oggi sappiamo bene che l'emergenza vera e propria che si sta affrontando è l'emergenza Covid e che si è affrontato nei mesi precedenti. E' pur vero che siamo tutti consapevoli che l'emergenza futura sarà l'emergenza che riguarda questo tema perché è indubbio che questi dati creeranno grossi problemi perché non facendo prevenzione oggi ci troveremo poi a dover curare domani. Io credo che questo provocherà delle conseguenze pesanti e tragiche per le persone, per i cittadini ma soprattutto per i sistemi sanitari regionali. Il dato che preoccupa sì è quello che all'interno di quello studio proprio la regione Liguria viene definita maglia nera per la cura e prevenzione di tumori all'utero, chirurgia e tumore ai polmoni, colon, tiroide e anche per i ricoveri per patologie cardiologiche e neurologiche. Questa frase diciamo destra qualche preoccupazione in più rispetto a quello che è un fenomeno diffuso a livello nazionale. Per cui per completare quanto ho chiesto dai miei colleghi con questa interrogazione chiedo gentilmente al Presidente Totti se ci sono dei dati in nostro possesso riguardanti tali riduzioni di attività di prevenzione e cura perché qua si parla genericamente di una riduzione ma sarebbe interessante capire di quanto sono stati ridotti e soprattutto quindi se c'è un piano poi per rilanciare terminata l'emergenza Covid. Grazie. Grazie consigliere Boscello per la giustizia.